Cari amiche e cari amici, buona giornata. Oggi mi piacerebbe parlarvi di meccaniche veneziane e in particolare del suo orologio più conosciuto, quello secondo me più venduto che è Nereide. Per fare questo però volevo comparare questo orologio con un altro giapponese, con un altro orologio giapponese che ha caratteristiche medesime e vedere da questo confronto come si posiziona l'orologeria italiana rispetto appunto a quella molto più strutturata e molto più forte giapponese. Nereide è già stato recensito in molti video ed è un orologio, non solo italiani, ed è un orologio che ha fatto decisamente successo. La scatola esterna è questo bellissimo cartone nero con la croce di Sant'Andrea, simbolo di meccaniche veneziane. La scatola la conoscete già, è una bella scatola robusta. E all'interno non troviamo l'orologio perché l'orologio veniva fornito con due cinturini. Quello in acciaio, tipo giubilè, bello, robusto, con i terminali pieni, esteticamente molto valido. E se no, il cinturino nero in questo caso. Io, come sapete oramai di consueto, ho provveduto, avendo questa bellissima ghiera in vetro blu, a cambiare il cinturino mettendogli questo in silicone in blu, uguale a quello della ghiera. Il vetro è zaffero, 42 mm di larghezza della cassa. Un bel logo, appunto la croce di meccaniche veneziane che trovate sulla corona di carica. Il fondello, anche questo molto bello. è equipaggiato con un robustissimo Seiko NH35 ed è un orologio preciso. Non ho misurato la precisione perché se uno vuole l'assoluta precisione non prende un orologio meccanico. Vedete l'estetica, anche questa molto piacevole, secondo me. Pancette a bastone, come anche gli indici. Ebbene, dopo averlo presentato, con che cosa lo voglio confrontare? Ve l'ho detto con un orologio giapponese. che tra l'altro ho avuto già modo di presentarvi e che io ritengo che sia uno degli orologi diver più belli che ci sono. Eccolo qua. Orient Triton. La scatola la conoscete quindi non ve la faccio rivedere questo è il suo numero di matricola perché appunto è il black. Questo è come vi dicevo il cinturino in acciaio. e questo è questo il corrispondente cinturino in acciaio del Triton esteticamente è il più bello secondo me essendo un jubilee quello di meccaniche veneziane come robustezza appare forse più consistente quello dell'Orient quello del Triton questo è un dive professionale con vetro zaffero 200 metri di impermeabilità il movimento è di casa Orient ed ha la particolarità della corona di carica ad ore 4 ecco i due fondelli a confronto beh che dire sono tutti e due molto belli forse addirittura la lavorazione di quello di Nereide è persino migliore e più interessante ma c'è un ultimo dato su cui voglio attirare la vostra attenzione ed è il costo di questi due orologi è vero che uno ha la complicazione della riserva di carica che poi a molti purtroppo non piace però ripeto sono due orologi fra loro confrontabili per le caratteristiche ebbene ad oggi stiamo parlando dell'8 di novembre il costo di Nereide è di 585 euro compressivi del bracciale in acciaio che diventano 500 senza appunto il bracciale jubile quindi solamente con il cinturino in pelle l'Orient Triton che è un orologio dalle offerte spesso molto consistenti oggi è venduto su Amazon a 634 euro oggi su Amazon ho provato a guardare se c'erano delle offerte e non le ho trovate tra l'altro in questo caso viene offerto il Triton quello nero con le finiture color oro della iera ripeto spesso ci sono delle offerte per cui il Triton viene pagato molto meno ma anche su Nereide ogni tanto ci sono delle offerte da parte della ditta meccanica veneziane quindi che dire io credo che questo dimostri che la nostra industria orologera ha fatto dei passi evidenti in avanti è vero che non abbiamo sviluppato un nostro tipo di movimento però è anche vero che utilizzare un movimento affidabile e comunque comprato da un fornitore di terze parti non è così disdicevole tenendo conto che molte ditte svizzere si comportano nel medesimo modo quindi io dico che i ragazzi di meccaniche veneziane sono stati bravi e hanno fatto veramente qualche cosa di particolare riuscendo a confrontarsi con dei colossi come Orient perché Orient lo ricordo fa parte del gruppo Epson che è proprietario anche di Seiko quindi si tratta di una ditta particolarmente forte poi l'estetica ripeto può essere condivisa a seconda delle singole esigenze e delle singole aspetti certo Triton è più originale nella sua configurazione meccaniche veneziane è diciamo più classico e se li presento è perché mi piacciono moltissimo entrambi 43 mm il Triton di grandezza della cassa ripeto 42 mm nereide bene cari amici grazie dell'attenzione vi saluto e vi auguro una buona anzi un'ottima giornata di grandezza